eccoci qua ragazzi abbiamo fatto rinformento dell'acqua e ecco che si lava il cesso questa macchinetta allora qua è bello perché tutto automatico è davvero e questa è la concessionaria da dove abbiamo preso questo mezzo come vedete qua ci sono altri mezzi a noi piaceva tipo un puzzle del genere questo qua che è molto bello adesso ecco è già venduto anche questo 54.000 due posti a letto e noi volevamo tre comunque anche se abbiamo tutti qua noi di come già venduto e chiuso però bello 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 poi ci sono altri anche questo è molto bello e della deathless ci sono di solito quelli la tipo come laica come e come vedete tipo questo che sono davvero bellissimi davvero belli stupendo questi nuovi 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 di zecca questo si è aperto ecco è aperto si può entrare questo ma magari sarà il prossimo passo guardate che bello che l'è dentro e qua sopra c'è anche il porto mamma mia questo è bello grande questo mi piace non solo il prezzo ma fantastico così guardate che bello e poi pure la scende il letto mamma mia che c'è anche il forno di net grande cucina bellissima il frigo a muro bellissimo c'è anche il forno a microonde la tv già guardate qua due posti a letto separati ma penso che si possono unire anche questo e poi e poi il bagno è spettacolo da una parte è spettacolo a me piacciono un sacco questi e poi la doccia ragazzi ragazzi la doccia è fantastico qua in coda davvero mi piace un sacco anche perché c'è tanto spazio non come si vede guarda che armadio qua e poi a prendere tutto quello che vuoi davvero bellissimo e poi anche qua questo questi sono medi fantastici no no però vediamo il prezzo non so il prezzo però secondo me questo ha un bel prezzo ma questo è spettacolo ha già c'è tutto di serie tante cose infatti deathless cioè questa firma deathless faceva solo questo tipo di medi dicevano non lo so poi hanno fatto anche furgonato come come il nostro che sempre questo il tavolo che si gira di qua di là la panchina no è bello è bello assai davvero molto bello non so vediamo il prezzo il prezzo sarà interessante il prezzo così com'è 83 mila ci sono quattro posti a dormire cioè quindi quei due la e altri due così pensate però bello insomma vediamo è lungo 7 metri 41 e poi di larghezza c'è la 2 metri 33 e alto 2 94 e comunque si pesa 3 tonnellate 4 99 insomma già pesa tanto motore sempre del fiat la meccanica motore da 222 litri con 160 ps non male non male per un mezzo del genere si bello 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 mi piace un sacco mi piace un sacco mezzo del genere molto bello però sì con questi non puoi andare dove dove posso andare io dicono alla fine puoi andare ovunque ma sì anche questi mi piacciono questo integrato quello è un semi integrato e questo integrato questo è ancora bello vero perché è molto luminoso con questa cabina qua no davvero sono dei mezzi questi però anche 80 mila ragazzi non è da poco dove dove sono entrato non mi ricordo da dietro sicuramente comunque da questo negozio qua da questa pece nazionale abbiamo preso anche noi il nostro che siamo molto contenti questo qua è un vediamo quanto è sempre tre posti 57 molto più caro del nostro però sicuramente sarà bello ecco è bello è come nel nostro grosso modo alla fine vediamo cosa cambia sicuramente anche qua dove c'è la di ne diventa posto letto se sulla meccanica di citroen bello spazio qua alla fine mi piace tanto perché ai si si bello alto fare non hai problemi di rimandare le testate sarà più corto questo fa impressione come è solo con l'unità l'intenzione solo con me ha messo i mobili comunque molto bello qua dice il frigo qua è bello questo armadio si a noi manca una roba del genere però vado alla fine però mi sembra letto un po più piccolino rispetto al nostro e non ha le finestre lì da dietro sicuramente più corto però vabbè non è male come mi piace come è fatto molto vero da qua è molto robusto come il biletto non male non ma sempre questi cosi che il bagno è bello mi piace questa porta ed è bello grande bagno però non ha la finestrina fuori però si chiude solo perché c'è qualcosa che lo teno bisogno che deve andare fino a fuori vabbè si preme e c'è da dietro non so sì non male anche però costa un po più caro sia e lo blu sopra però la finestrina manca ecco molto comodo comodo all'estate comunque è normale neanche questo però mi piace di più il mio sinceramente come è fatto ma anche questo non ha di serie diciamo il navigatore quelle robe la però non si mi sembra molto largo qua mi sembra però il nostro è bello che a questa cosa che attacca a pane come abbiamo fatto un po si è normale comunque però un po diverso un'altra cosa però il prezzo è meglio il mio il mio 7 mila in meno sinceramente e questo l'abbiamo visto è comunque bene comunque da qua era qua da qualche parte dei nostri partiti anche più questo modello il nostro riferimento fatto adesso la mia moglie ha fatto le pulizie tutto a posto e niente partiamo comunque guardate questo pc di da usare un termine che lo sento sempre questo è bello è piccolino però dietro qua c'era la cucina e sopra i posti letto è come una macchina questo è molto c'è sulla strada secondo me questo si comporta molto bene nel senso che questo va poi l'antenna è là che è pieghevole in qualche maniera perché non penso che resta così mentre viaggia però comunque è bello questo mezzo non so da dove come salga non so però penso che da ci sarà una scaletta qualcosa però comunque è molto bello non male non male questo però non è anche questo mio non è male per niente no 그게 non Paint! edgo grazie grazie